a questo punto riprendiamo confidenza con le varie zone vedete che qui abbiamo in alto a sinistra la selezione del tool quindi se vogliamo posizionare un oggetto, se vogliamo ruotarlo, se vogliamo ingrandirlo, rimpicciolirlo o se vogliamo più o meno scalarlo in maniera intelligente questo lo sconsiglio per il momento altre cose fondamentali è la finestra della scena in cui andiamo a costruire gli oggetti e quindi vediamo sicuramente game object vuol dire che facciamo una scena basissima e ci mettiamo un piano io faccio sempre così, quindi scena basissima il piano e poi sempre nella scena basissima ci mettiamo un cubo ecco notate che il cubo viene messo, lo mettiamo lungo l'asse blu perché praticamente sappiate che la x e la y sono praticamente la destra e l'altezza un po' come se ho in pratica, ecco qui, premo il tasto destro e poi posso praticamente ruotare imparate anche questo meccanismo se premo il tasto centrale premendo il tasto centrale muovo tutta la scena e poi sempre cliccando così e osservate che la telecamera è sempre sul retro e che guarda verso il blu infatti se voi cliccate la telecamera vedete che guarda il blu la sample scene, che è quella che viene presentata all'inizio è questa qua ed è memorizzata sotto scenes e dentro c'è sample scene noi in realtà adesso per questi video sotto assets, questo è il progetto nostro costruiremo una cartella facciamo create folder e questo folder lo chiamiamo ad esempio video 1 per indicare che facciamo le scene del video 1 in realtà vogliamo spostare questa scena che stiamo facendo che adesso si trova sotto scenes la vogliamo spostare sotto video 1 quindi facciamo sample scene la spostiamo così col drag and drop sotto video 1 abbiamo la sample scene e sicuramente la chiameremo main la scena principale la scena principale è praticamente quella su cui lavoriamo in una scena vedete che abbiamo quindi sempre contro il tasto centrale del mouse e poi mi giro come voglio abbiamo le varie parti in questa scena abbiamo la telecamera che fa vedere quello che si fa vedere e poi abbiamo i vari oggetti che possiamo cliccarli quindi questa è la telecamera clicchiamo sul piano e clicchiamo sul cubo possiamo alzare il cubo e metterlo in un modo intelligente sulla destra vediamo l'inspector che ci fa vedere quali sono le caratteristiche di questa scena ora una cosa fondamentale è che ogni game object ha un transform ha poi un mesh filter un mesh renderer e in questo caso anche un box collider allora vediamoli transform decide dove è messo l'oggetto come è ruotato e come è scalato se voi lo cambiate quindi ad esempio questo oggetto lo spostate vedete che cambia la z la z sarebbe l'asse blu l'asse blu indica quanto è lontano da noi rispetto alla telecamera che di default è messa in modo tale da guardare lungo l'asse z se lo alziamo alziamo sull'asse y che è questo e viceversa e l'asse rosso x permette di spostarlo a sinistra e a destra l'unità di misura dovrebbe essere un metro quindi qui lo mettiamo in questo modo se noi vogliamo mettere l'oggetto in una posizione zero quindi centrata sull'origine qui abbiamo un reset position che ci mette e ci infila il centro del cubo qui all'inizio non è il modo ideale quindi lo alziamo un pochino e lo spostiamo in fondo giusto per avere una prospettiva ora così abbiamo modificato le transform il mesh cube permette di cambiare la mesh quindi adesso abbiamo una mesh ma possiamo ad esempio cambiarla in una sfera quindi vedete che c'è già una cosa interessante che l'oggetto può nascere cubo e diventare quadrato e viceversa oppure una capsula oppure un cilindro oppure a sua volta una sfera oppure un cubetto e noi possiamo farlo il quad sarebbe un pannellino messo lì ok noi mettiamo la capsula che è abbastanza interessante da vedere ok quindi il mesh filter indica qual è l'oggetto cioè la forma dell'oggetto trasforma dove è la posizione dell'oggetto e poi abbiamo il mesh renderer che indica di che cosa è fatto cioè come è colorato in questo caso abbiamo il colore che è dato dal default material ma noi possiamo creare un altro materiale ed è una cosa che facciamo immediatamente quindi creiamo un materiale quindi il materiale lo facciamo rosso e avendolo fatto rosso andiamo a modificare quindi vedete che clicco su rosso modifico l'albido e l'albido lo metto praticamente qua sul rosso in modo tale da avere un rosso abbastanza brillante avendo fatto così l'oggetto diventa rosso questo oggetto sarebbe il materiale e questo materiale rosso possiamo spostarlo su un oggetto della scena e quindi la capsula diventa rossa analogamente possiamo prendere un oggetto della nostra scena fare ctrl d e ottenere un altro materiale che possiamo dire di farlo green verde e in questo caso il green gli mettiamo l'albido al valore mettiamo un bel verde qua e abbiamo un colore verde questo e possiamo spostarlo nel nel piano quindi abbiamo la nostra scena base composta da un piano verde e da una capsula rossa grazie a tutti